Aspettati vai per questo code Compa sono positivo Ma te lo sei fatto il tampone Mi dici che sei positivo Mi dici che sei positivo Mario Ci siamo Attenzione video video Filippo Graves non è Stefano Il bastardo Non sono io Audio La grafica L'intelligence segnala che in un livello sotterraneo Connie nasconde un arsenale di sostanze chimiche Tanto grande da sterminare il Medio Oriente E l'Europa Ora il nostro obiettivo principale è impedire che ciò Ma che ha? E lo faremo in quattro fasi Prima sarà l'infiltrazione per via aerea Al momento il bersaglio è difeso da siti sum attivi I nostri aerei verranno colpiti Sarà una bella gita Dalla zona d'atterraggio gli Shadow raggiungeranno il primo obiettivo Uno degli otto lanciamissili situati lungo tutto il perimetro dell'osservatorio Occuperete il lanciamissili assegnato e al mio segnale Effettuerete un attacco congiunto Distruggendo Zaya e aprendo un enorme punto d'ingresso per poter entrare nel complesso sotterraneo Minchia O dentro trovate le sostanze chimiche Recuperate più contenitori possibili E dirigetevi a un punto di estrazione Dove verrete prelevati insieme ai contenitori Non sarà una passeggiata La vostra in gioco è alta Già mi ispira già Siamo pronti a fare casino? Sì! Siamo pronti cazzo! Sì! Bene! Muoviamo il culo! Dai pilli muoviamo il culo! Maria picciotti ma che cosa deve succedere? Allora gira gira dobbiamo farci tutti sti lanciamissili vai Allora due vanno in quello là Due andiamo a destra Due andiamo in questo a destra Ragazzi ci sono i bottoni Ci sono nemici veri Tranquilli Maria Aiuto Bravo Maria mi sto confondendo Ma che cazzo Vai attenzione picciotti Ci mirano da battuto Picciotti Sto laggando anch'io Sto laggando anch'io Tranquilli Raga è la normalità Chi cazzo è che guida sto coso? Guarda quello Tutta ti pilli Oh 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 La bua Manisci pure è morto Non ci credo Guarda Sono una merda carreggiana Sono una merda carreggiana Guarda Non è bene 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 4 3 2 1 Che succede? Tutti i missili sono partiti Raga Ehm Ora Finito Ma che cazzo spara? Ma questo è scimunito No ma perciò con un veicolo Invadi il bunker Ragazzi tutti al bunker E Ale Ale Venimi a prendere a me Ale Guardami Guardami Guardatemi a sinistra Mi vedi? Maria sono questo rosa dai Prendimi Eh dobbiamo buttarci qua mi so Sì sì Dobbiamo buttarci qua Nel bunker vai Mi sono buttato Mi sono buttato raga Sono dentro Qua da me Ecco da me Sono dentro Prendete la Sì 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 Dovete prendere il gas e risalire in superficie raga In superficie In superficie In superficie Vai vai No ne mancano ancora altri 20 26 Vai 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 Un tot Io lo so ma ce n'è un bordello quelli ho pick out L'ultimo ce l'ho io L'ultimo ce l'ho io Ok sali sull'elicottolo Sali sull'elicotto Sali sull'elicotto Arrivo arrivo raga un attimo 47 secondi all'estrazione Vai 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 Arrivo arrivo Siete tutti sull'elicottero Come sei caduto Ma come cazzo ho fatto accadere avvice Ho veramente Vabbè in teoria fosse finito Sì Vediamo 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 che cosa succede Dice che questo fa scoppiare tutto questo Sì comandante Sostanze al sicuro È ora Ehi Con chi stai parlando Ma assurdo Ma assurdo Piciotti non fregate a tutti Comandante Oh dai Questo quà è il trailer del gioco Dovebbè essere prigione? O se la grafica è così, non chiamava. Mamma mia, bellissimo, dispersiva ha preso. Lui sa che state arrivando. Mamma mia. Wow, bello. Tipo infiltrazioni tattiche alla spinta è serena. Devi ritenere ora. Maurizio. Riparliamo di caos su scala globale. Ci sono due missili in arrivo, se siete lì andate via. Ammazza i civili. Ah, Dio. Visuale sul bersaglio. Certo, non lo faccio aiutanti. Vuole una guerra mondiale. È una bomba! Prenota l'edizione Cassaforte e ottieni il pacchetto Operatore Nemesis. Armi Cassaforte Fate. Il bundle Black Cell della stagione 1 con 50 salti di livello e molto altro. Makarov di alla grande. Bello, mi ispira. Se la grafica è quella è veramente bella. Ogni gioco che fanno il trailer è così, ragazzi. Tu dici? Ma io non mi ricordo che nei vecchi MW... Vi invito a lasciare un pollicione, a condividere, a lasciare un commentino. E probabilmente quando uscirà Modern Warfare 3 porteremo la campagna qui su YouTube con un let's play. Quindi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!